un cordiale buonasera da marco venditti allora un altro appuntamento a tu per tu come piace fare a me insomma con personaggi più o meno noti ma i meno noti non sono meno dai più noti non so se ci siamo capiti forse non mi sono capito nemmeno io comunque l'importante è fare una dialogo sulla sulla diciamo su quello che è l'interesse generale quello che il nostro amore la nostra passione la juventus allora ci troviamo al cospetto dell'ennesimo derby d'italia che va praticamente a sancire quelle che sono le possibilità della juve quest'anno allora dopo la disgraziata avventura in champions league è naturale che la juventus si presenta al meazza con dico meazza e san siro attenzione se non si offendono perché meazza per l'inter san siro per i milanisti comunque va beh insomma questo giusto per essere un pochino più precisi quindi al meazza ci presentiamo ovviamente non eh con i pronostici a favore prima di tutto per una questione di campo ma poi perché l'inter è più squadra ormai si conoscono da tre anni e poi anche perché la juventus ha delle defiance eh assolutamente da eh da non sottovalutare una su tutte ovviamente è quella di bremer non solo ma poi ci sono anche altri giocatori non c'è copminers e non c'è dagras luiz insomma è una juventus è piuttosto rimaneggiata ci presentiamo a milano con la consapevolezza che non possiamo fare un'altra e toppare un'altra partita dobbiamo andare come dico sempre io con gli occhi della tigre dobbiamo entrare in capo ma già nel tunnel che porta allo stadio all'interno eh gli juventini dovranno guardare gli avversari con il sangue agli occhi altrimenti non se ne esce da questa partita è vietato assolutamente andare a milano per portare a casa un punto se vai con questa mentalità tu perdi la partita devi andare a milano per vincere stop la condizione qua no è quella allora con me Michele Gigantino ciao Michele grazie per essere qui un noto eh juventino affezionato eh alla juventus a un suo gruppo seguitissimo e poi oltretutto gli piace eh scrivere anzi eh just in case come dicono gli inglesi intanto intanto buonasera ciao Michele ciao Marco buonasera anche a te grazie dell'invito e poi oltretutto è un serio professionista perché uno eh è uno psichiatra è un medico e quindi ovviamente abbiamo a che fare con una persona di cultura come piace eh fare sempre a me nelle mie trasmissioni eh bisogna fare informazione ma se si può dare oltre l'informazione anche un pochino di arricchimento culturale anche di altra specie non guasta assolutamente allora io prima di iniziare la nostra diatriba verbale come amo definirle io eh vorrei che eh tu ci parlassi un attimo di questa tua opera intanto la vado a visualizzare provvisorio eh una dedica provvisoria la maglia bianconera arrivata da Nottingham indossata e onorata da campioni e da umili pedatori eh perché possa continuare ad affascinare e fare innamorare tante altre eh generazioni allora questa è diciamo la copertina ehm provvisoria e mentre invece per quanto riguarda l'opera dove trovarla insomma eh e qui c'è scritto tutto la signora di calcio italiano storia della Juventus dal 1897 al 1986 quindi il range di questa storia è molto ampio e quindi c'è eh veramente da eh farsi una cultura calcistica sulla Juve copie prenotate eh primo obiettivo 10 più 200 io qui non ci capisco granché ce lo spiega il nostro ospite allora prego intanto ripropongo quelle che sono la copertina la dedica eh per tutti i nostri amici prego eh Michele. Grazie Marco eh dunque la la copertina dove si legge la dedica è naturalmente una copertina provvisoria questa è la dedica alla mia opera eh la signora del calcio italiano la Juventus storia della Juventus che la casa editrice la la Book Road mi ha chiesto di sdoppiare in due volumi perché l'estensione dell'opera è notevole e quindi la casa editrice ha mi ha chiesto di fare un primo volume dove racconto la storia della Juventus dal 1897 al mille novecento ottantasei quindi dai banchi di scuola alla alla cima del mondo dai banchi del Dazzeglio alla prima coppa intercontinentale vinta a Tokyo il secondo volume eh la cui eh diciamo eh pubblicazione viene posposta naturalmente eh e avverrà tra qualche mese racconta la storia della Juventus dal millenovecento ottantasei ai giorni nostri la dedica però è una dedica unica quella quella dedica che tu hai fatto vedere e questo è il mio secondo lavoro sulla Juventus io nel duemila e venti ho scritto un doppio volume la Juve è un sentimento al quale sono un doppio volume al quale sono legatissimo e che è stata pubblicata da Amazon è tuttora disponibile lì io raccontavo in quel doppio volume il mio rapporto sentimentale con la Juventus c'è la storia della Juventus che però viene eh raccontata e filtrata attraverso i sentimenti che io ho vissuto come eh ragazzino come adolescente come giovane come uomo adulto e poi come uomo maturo in questo doppio volume invece di cui stiamo parlando e la cui campagna promozionale è cominciata eh da due giorni quindi quando vedete dieci copie prenotate sono quelle prenotate nei primi due giorni di campagna promozionale in questa opera eh l'autore è eh si nasconde diciamo non non parla non non esplicita i suoi sentimenti ma racconta la storia della Juventus con una ehm attenzione una profondità storiografica una ricercatezza storiografica estrema caro Marco considera ti dico solo alcune cose piccolissime brevissime e si è sempre detto che l'unico della Juventus è del mila novecento quindici non è così è del mila novecentodiciannove e lo dico con eh dati certi gli autori non sono quelli di cui si è sempre scritto sono altri la Juventus non ha indossato la prima volta la maglia bianconera nel mila novecento tre ma esiste una documentazione eh di stampa che dice che già nel dicembre del mila novecento uno a milano la Juventus c'è in campo con la maglia bianconera sono citati nel mio libro presidenti che non sono riportati nel minor j museum quindi c'è una ricercatezza un'attenzione all'aspetto storiografico estrema che che non si dica che che è un libro ehm come i libri storici a volte pesante no perché c'è la snellezza la piacevolezza il racconto di tutta la storia della Juventus in ambito nazionale e internazionale ci sono i trionfi ci sono le delusioni cocenti e tu ne sai qualcosa Marco perché mi hai detto che hai assistito tutte le finali ho fatto ho fatto tutte le finali di Coppa Campioni e eh voglio aggiungere qualcosa su questa campagna promozionale Marco importante eh perché mh la casa editrice dà questa possibilità di eh prenotare il libro c'è un primo obiettivo che è di duecento prenotazioni se si raggiunge questo obiettivo io lo auspico fortemente ehm perché possa quella quella dedica eh il contenuto di quella dedica si possa realizzare eh se si raggiungono le duecento prenotazioni il libro andrà verrà distribuito in tutte le librerie italiane in tutte le librerie italiane sarà disponibile e allora ci potranno essere anche tanti ragazzi che magari vedendolo e avendo una simpatia per la Juventus potranno acquistarlo e leggere la storia meravigliosa della nostra della nostra Juventus e quindi quello è l'obiettivo che permetterà dopo duecento prenotazioni che a questo a questo libro e poi al successivo al secondo volume eh tra qualche mese di andare nelle librerie allora qualcuno si potrebbe chiedere va bene io lo prenoto no come faccio a prenotarlo innanzitutto è semplicissimo basta andare su google basta andare su google digitare la signora del calcio italiano e esce immediatamente ehm il titolo del libro la casa editrice e digitando sul titolo del libro si può leggere la sinossi si può leggere il primo capitolo del libro che è disponibile quindi per tutti per la lettura c'è la scheda autore chi vuole sapere chi è Michele Gigantino lo può leggere lì ci sono le prime recensioni di chi ha prenotato il libro e ci sono le modalità per acquistare acquistare significa prenotare il libro la campagna promozionale durerà centocinquanta giorni massimo cinque mesi ma questo non significa che vanno spesi tutti e cinque mesi perché se le duecento prenotazioni venissero raggiunte tra dieci giorni la casa editrice a quel punto darebbe luogo alla stampa del libro lo invierebbe nelle librerie italiane in tutte e lo farebbe arrivare nelle case di chi lo ha prenotato scusami questo è questa formula è fatta da da amazon o da no è fatta da una casa editrice che si chiama book road book road che offre proprio è una forma di incentivazione ai nuovi scrittori che poi si devono nelle fasi iniziali autopromuovere in buona sostanza io ti ringrazio di darmi marco questa possibilità perché non c'è problema opportuno sono due giorni che è iniziata questa campagna promozionale guarda io questa qui la riproporrò oltre la registrazione che stiamo facendo adesso che andrà in forma integrale sulla trasmissione di questa sera subito dopo subito dopo chiedo scusa che c'è un attimo ma gioca gioca domani gioca domani alle ore 18 perché ho fatto confusione domani alle ore 18 ma verrà riproposta nel corso della trasmissione in diretta questa sera quello non solo quello che ci stiamo dicendo noi da qui al termine ma che quindi c'è la pubblicità del libro all'interno di essa mentre invece adesso noi ovviamente parleremo voglio solo dirti un'ultima cosa che ritengo importante perché qualcuno si potrebbe chiedere giustamente giustamente ma se non si raggiunge questo obiettivo delle duecento esatto delle duecento prenotazioni e gli euro che ho speso per prenotare questo libro che fine fanno allora è molto semplice se proprio andiamo malissimo ma non ci voglio nemmeno pensare marco siamo sotto le cinquanta prenotazioni no ma dopo due giorni già siamo a dieci quindi non non ci credo non ci voglio credere poi con il tuo aiuto e con l'aiuto dei dei tuoi followers che sono ma i miei te lo comprano sicuro te lo compro allora io non ci voglio nemmeno pensare ma voglio però voglio dirlo se non si raggiungessero nemmeno le cinquanta prenotazioni alla scadenza dei cinque mesi perché chiaramente bisogna aspettare in questo caso la cifra corrisposta verrà integralmente restituita a chi l'ha pagata è una cifra è sicura. Possiamo chiederti eh la copia eh il costo di ogni copia quant'è? Dici a sette euro mi raccomando mi raccomando cliccare su spedizione gratuita perché non ha senso cliccare spedizione col corriere espresso cinque euro no perché se perché voglio dire siccome verrà spedito una volta raggiunto l'obiettivo può tranquillamente arrivare con spedizione gratuita quindi sono dici a sette euro la la somma l'ha stabilita la casa editrice io non ho avuto parte in causa però è nella media del costo di libri che si aggiungono intorno alle trecento pagine perché io penso che complessivamente tra primo e secondo volume verranno sei settecento pagine insomma eh quindi se non si raggiungessero le cinquanta prenotazioni al termine della campagna promozionale dopo centocinquanta giorni la somma verrà restituita se invece non si arrivasse ad andare in libreria fai conto sono centottanta le prenotazioni il libro verrà stampato e mandato soltanto a chi lo ha prenotato e mandato a casa eh di chi lo ha prenotato ok penso che sia chiesto allora questo qui non solo è stato chiarito adesso ma poi verrà eh chiarito di nuovo nel corso della trasmissione stasera perché io faccio un preambolo introduttivo sulla serata dico attenzione perché ehm c'è questa promozione non perdete questa promozione un'ultima cosa Marco ti voglio dire io due anni fa ce l'avevo già pronto il libro però mi sono fermato era il momento terribile delle per aspettare e la procura di Torino ad Andrea Agnelli alla dirigenza della Juventus io a quel punto ho deciso con gli amici di gente della Juve di lasciare da parte la pubblicazione del libro e cominciare a raccontare la storia della Juventus che io racconto in puntate monografiche dal ventotto dicembre del duemila e ventidue due sere fa è andato in onda la sedicesima puntata e ho raccontato la storia dello scudetto mila novecentosettantuno sessantadue siamo alla vigilia della partita di San Siro lì col tacco di Bettega a San Siro e col quattro a uno sul Milan imbattuto che non aveva subito gol incominciò la grande epopea e la grande era della Juventus bonipertiana degli anni settantie è vero è vero cominciò a San Siro col quattro a uno al Milan e io ho raccontato in questa sedicesima puntata quella meravigliosa stagione quella della tragedia anche del povero Vic Palek che perse il figlio nello schianto di punta Raisi del 18 dell'Italia quella della malattia di Bettega che lasciò la Juventus e dopo quattordici giornate avendo segnato dieci gol bene sul gente della Juve ci sono c'è una playlist con tutte le puntate della storia della Juventus io l'ho interrotta negli ultimi mesi questa questo racconto dopo quindici puntate ho interrotto per tre quattro mesi proprio per finire il libro dove io racconto tutto quanto sto raccontando e a Dio piacendo racconterò nei mesi e negli anni a venire sulla piattaforma sulle sulla youtube e su facebook di gente della Juve quindi ehm si collega un a un format editoriale che mi è molto caro e che io ho riportato eh su questi due volumi bene adesso però parliamo eh questa sera poi ovviamente va a questa registrazione come avevo detto ci sarà la 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 il lancio pubblicitario e il rilancio pubblicitario questa sera senti volevo invece eh chiederti molto brevemente qualche minuto sulla eh intanto ci se c'è la eh diciamo la probabile formazione formazioni di quella che sarà la partita eh della eh della serata della della Juve adesso qui c'è un problema veramente molto grosso per me perché tu lo vedi normale io invece lo vedo ultrapiccolo allora se mi fai la cortesia di leggere tu sì allora guarda io vedo Juventus quattro due tre uno di di Gregorio Savona Calulu Gatto Gatti e Cambiasso poi eh Meccenni e Fagioli quindi con Seisa Wildiz e Mangulà dietro a Blauvic ecco questa è la formazione degli squalificati eh eh squalificati non ne abbiamo fortunatamente nessuno ma d'altra parte siamo in avvio di stagione prima di però indisponibili indisponibili bremer milic gonzalez copminers e da classe e non è che possiamo regalare tanto facilmente giocatori di questo livello senti guardiamo anche eh io non lo nomino perché mi viene male una sorta di orticaria cutanea ecco se vuoi nominare eh tu la eh quella squadra la seconda squadra di Milano guarda io non vedo non vedo non è scritta qui però io mi immagino quale potrà essere l'interdito non la vedo scritta qui allora devi salire un attimo devi salire un attimo e non può e non posso perché la stampa è questa facciamo finta che l'abbiamo letta allora no me la immagino perché vedo gli indisponibili a Cerbi Cialanoglu e Carlos Augusto Carlos Augusto è già una riserva a Cerbi viene sostituito da Tevrai che non è un signor diciamo che per loro la perdita e per Cialanoglu c'è Frattesi insomma l'inter in campo con la migliore formazione guarda gioca anche se non la leggo qui eh gioca tra i pali Sommer poi giocherà sicuramente a destra Pavard centrale De Vrai e a sinistra Bastoni poi la linea cinque sarà Darmian e Di Marco sulle fasce il trio centrale sarà Barella eh Frattesi e Cialanoglu e Cialanoglu e Mkhitaryan e il duo d'attacco sarà naturalmente Lukaku e Turan quindi praticamente è una formazione completa assolutamente una formazione completa a differenza della nostra che invece è assolutamente incompleta io ricordo il nostro sito di riferimento eh di Marco eh praticamente nel titolo eh principale eh con eh Cambiaso a voi Di Marco Cambiaso a voi sarà lo scontro diciamo questo qui e poi ovviamente e tutte le varie considerazioni attenzione perché c'è nella reparte nel reparto rappresentativo dell'organigramma della Juventus il ritorno di un grande che tra l'altro è anche un un mio carissimo amico ha lavorato con me a T9 a eh a Roma Sergio eh Brio quindi è stato reinserito dopo tanti anni adesso lo chiamo e gli faccio le congratulazioni bene allora eh che partita sarà secondo te e poi ci lasciamo perché abbiamo già sforato abbastanza però poi eh vediamo un po' una partita eh te lo dico subito delicata la Juve deve entrare in campo con gli occhi della Tigre non sottomettersi o accontentarsi di un eventuale pareggio perché se no la partita si perde dopo la figuraccia in Champions League è naturale che ci si aspetti da parte della Juventus una reazione tutt'altro eh tutt'altro che insomma eh di una squadra che si può accontentare questo assolutamente no è col tuo giudizio su questa partita ma guarda eh non possiamo e tu l'hai già sottolineato ma devo sottolinearlo anch'io non possiamo sottovalutare le nostre assenze noi purtroppo abbiamo una maledizione in Champions League anche quando viviamo serate memorabili da ricordare per anni e anni come quella di Lipsia noi perdiamo in quella serata Bremer per tutta la stagione Copminers che si frattura la costola in quella partita e prendia e perdiamo anche Nico Gonzales cioè perdiamo tre elementi fondamentali per la squadra nella serie in cui possiamo gioire per una vittoria memorabile quindi maledizione in Champions League ma veniamo alla partita di domani l'Inter è una squadra già rodata sono giocatori che non hanno punti deboli non hanno punti deboli nella squadra quindi io mi aspetto un Inter favorita nella partita di domani ma di una cosa sono certo che non andremo a fare le partite che abbiamo fatto negli ultimi anni a San Siro speculative tutti arroccati in difesa cercando che un rilancio casuale metta in azione una nostra metta in azione un nostro giocatore d'attacco che magari eh per un contropiede fortuito può segnare un gol sono sicuro eh questa squadra di Tiago Motta a me piace molto al di là della partita dell'altra sera contro uno Stoccarda attenzione molto forte perché io ho avuto un'ottima impressione dello Stoccarda eh ottima 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 un'ottima ehm impressione mi ha fatto lo Stoccarda è vero che noi tranne Peril che ha fatto una partita grandiosa abbiamo giocato tutti i nostri ragazzi hanno giocato al di sotto le loro possibilità però mi aspetto una Juve che scende in campo con la dignità di voler giocare al calcio che sta dimostrando fin dalla prima giornata di quest'anno poi ci sono tanti limiti perché la manovra non scorre perché la manovra è ancora troppo con passaggi laterali perché c'è un ritmo troppo lento però io vedo finalmente dopo tre anni eh in cui veramente la Juventus era scesa a livello estetico eh di gioco a livelli molto bassi vedo finalmente una squadra che vuole proporre un suo gioco deve ancora migliorare deve avere anche nelle sue fila gli interpreti principali perché una cosa è giocare con eh Copminers, Nico Gonzales, con Seisao e e Bremer lasciamelo dire perché per quanto Calulu sia forte Bremer è una era una montagna insormontabile e insieme a Calulu veramente avrebbero composto una una coppia formidabile ci manca ci mancherà a lungo non possiamo piangere su un latte versato però in questo momento io sono sicuro che la Juventus andrà a fare una figura dignitosa in fatto di gioco a Milano non so se riuscirà a portare via un risultato favorevole me lo auguro con tutto il cuore non la vedo facile però la partita di Milano perché attualmente per per qualità tecnica e anche ehm amalgama della della squadra che insieme da anni ci è superiore poi gioca anche a San Siro per quanto San Siro è sempre piena di appassionati juventini però è è sempre un giocare in trasferta insomma. Beh e tutta la brianza è notoriamente bianconera però eh i favori del pronostico vanno eh scusate la ripetizione a favore del della squadra di casa ma non sarebbe stato così Michele se la Juventus avesse avuto tutti i giocatori a disposizione allora in quel caso avrei detto no partiamo la pari perché la Juventus è una squadra competitiva adesso adesso è così adesso sono d'accordo Marco perché la Juventus che è scesa in campo all'Ipsia con Bremer e integro con con Bainers integro con Nico Gonzales e sinzaro se l'andava a giocare alla pari assolutamente però voglio dire questi sono tre pezzi da novanta del nostro mercato chiamati a rinforzare una squadra che aveva mostrato i suoi limiti l'anno scorso se sono tutti e tre fuori non è che noi vogliamo piangere prima della partita ma questo è un dato di fatto è una realtà forse è un dato di fatto chiaro siamo penalizzati in quel senso io non ti chiedo il pronostico perché venendo da una scuola boniperchiana che boniperti si toccava i marroni eh quando gli chiedevano il pronostico si alzava anzi ti trattava anche male se ne andava via quindi io non faccio pronostiche pronostici dico semplicemente eh ecco qua gli occhi della tigre entri in campo con quelli non devi guardare in faccia a nessuno anche se ti mancano i giocatori anche se non giochi sul tuo campo insomma bisogna vivere questa partita in un altro modo bene allora eh prima di salutarci perché abbiamo super sforato abbiamo raddoppiato il tempo a disposizione ma l'ho fatto volentieri la signora del calcio italiano storia della Juventus dal 1897 al 1986 un ventaglio molto ampio di storia della Juve a cura ovviamente eh di eh Michele eh Gigantino e eh qui c'è tutto quanto come prenotare me l'ha spiegato prima in modo assolutamente dettagliato andiamo a vedere anche la eh il titolo che lo dedica lo dedica che poi la la dedica la maglia bianconera arrivata da Nottingham eh eh indossata e onorata da campioni e da umili pedatori perché possa continuare ad affascinare e a fare e innamorare tante altre eh generazioni questo pedatori è un termine inventato eh dal grande dal grande eh Gianni Brera l'arte pedatoria esatto esatto che noi ignobilmente ce ne siamo appropriati però no a parte le battute ci sta ci sta tutto quanto allora Michele eh abbiamo super sforato come dicevo intanto ricordo il nostro sito di riferimento signora mia calcio news dove eh prendete si aggiorna ogni due ore eh molti dicono eh ma negli altri siti ci sono otto mila cinquecento notizie allora intanto cominciamo a dire che questa è una redazione giornalistica non è un canale televisivo come tanti altri noi preferiamo dare tre eh quattro notizie al giorno ma che siano attendibili non dobbiamo riempire di stupidaggini e anche di notizie fake perché non è nella nostra politica bene allora io ringrazio Michele Gigatino sperando che possa intervenire poi in una serata in eh diretta con tutti gli altri eh personaggi io ti ringrazio molto grazie a te ma no sono io che ringrazio del marco dell'invito dello spazio che mi hai concesso anche dello spazio che hai concesso alla mia iniziativa editoriale che ha uno scopo preciso quello di far conoscere ai ragazzi ai giovani alle future generazioni quanto è meravigliosa la storia della nostra amata Juventus questo è il vero scopo per il quale chiedo eh date una mano non a me a quest'opera per raggiungere quell'obiettivo perché questo è l'obiettivo che mi sono proposto questo è l'obiettivo principale anche per il futuro alle future generazioni quanto è meravigliosa la nostra storia visto che non ne parla nessuno ce la infangano spesso e volentieri eh io ci tengo molto che eh le future generazioni conoscano la vera storia e i veri valori della nostra Juventus ecco questo che ha detto Michele eh eh gigantino mi fa piacere perché fa parte della politica della nostra eh trasmissione cioè noi facciamo informazione e facciamo anche informazione storica per tutti coloro che magari vogliono conoscere diciamo molti eh giuventini o travestiti da giuventini non lo so molti giuventini che pensano di sapere ma se gli dici eh una formazione di una Juventus se gli dici una finale eccetera eccetera non sanno niente allora documentatevi su quest'opera perché è un'opera eh sotto il profilo squisitamente eh storico che serve molto ad ampliare la vostra conoscenza per quanto riguarda le cose di Juventus grazie Michele allora ti aspetto in diretta quando vuoi un saluto affettuoso anche a tutti i tuoi follower e a tutti quanti ci hanno seguito grazie 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 grazie